Lo sciopero dei medici di base ha raggiunto una percentuale di astenuti dal lavoro che oramai neppure nell'industria o nelle amministrazioni pubbliche si raggiunge. La loro protesta con cui chiedono una semplificazione burocratica del loro lavoro è motivata dalla sottrazione di tempo e impegno nelle visite a discapito dell'anamnesi e della diagnosi della patologia del paziente. La smaterializzazione delle ricette retribuita con indennizzo e delle prescrizioni è un punto non ancora superato in un mondo dove oramai solo i verbali della polizia sono redatti su fogli di carta e affissi sul parabrezza. Pur essendo un aspetto importante resta marginale di fronte alla penuria di medici e soprattutto all'impossibilità di procacciarne nell'ambito della medicina di base. I giovani appena laureati e specializzati percorrono altre strade verso ambiti più remunerativi certo ma soprattutto gratificanti sul piano professionale. E del resto come non comprendere tali scelte dopo un percorso di studi che comporta un impegno totalizzante di sei anni a cui devono essere sommati gli anni non facili di una specializzazione produttiva sul piano dell'apprendimento. In tanti rimpiangono il periodo in cui i medici di base allora chiamati di famiglia difficilmente demandavano a specialisti la diagnosi della patologia su cui si esprimevano con competenza. Non di meno il medico di base nel suo importante ruolo deve poter assolvere la sua funzione senza che questa venga svolta dai centri di pronto soccorso o dalle guardie mediche. La riorganizzazione della medicina di base mai partita non solo per l'assenza di una volontà politica ma anche per la resistenza dello stesso ordine professionale è più che mai necessaria. Così come è importante un impegno economico significativo nei corsi universitari di medicina che devono allargarsi a un ulteriore numero di studenti e futuri medici dei quali da anni avvertiamo la carenza.